Perde il controllo del suo fuoristrada, e va a scontrarsi contro lo spartitraffico di ferro che separa le due carreggiate dell'autostrada 29 che collega Mazzara del Vallo a Palermo. Le lamiere del guardrail, dopo aver infranto il parabrezza del mezzo, hanno attraversato in lunghezza lo stesso fuoristrada, un Freelander Land Rover. L'impatto poteva trasformarsi in un tragedia. Il conducente, un 21N del comune siciliano di Mazzara del Vallo, ne è uscito miracolosamente vivo. Lo schianto è avvenuto all'imbocco dell'autostrada che collega Mazzara del Vallo a Palermo nella mattinata di sabato 3 settembre. Per motivi ancora da accertare, l'automobilista ha sbandato, ha perso il controllo della sua vettura, ed è andando a schiantarsi sulla protezione di ferro che separa le due carreggiate dell'autostrada. Come riportano i media locali, il 21N in evidente stato di socca è stato estratto dalle lamiere dell'abitacolo grazie all'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco. Trasportato attraverso il 118 presso il pronto soccorso dell'ospedale a Punto Aiello, in prognosi riservata. Il giovane è stato successivamente trasferito al Trauma Center di Villa Sofia, a Palermo, e sottoposto alle cure degli specialisti, li rimarrà sotto osservazione per alcuni giorni. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dalla Polizia Municipale di Mazzara del Vallo. Real Video vi ringrazia per essere rimasti fino alla fine, iscriviti e attiva la campanellina per rimanere aggiornato su tutti i miei prossimi video. Grazie a tutti.